All'interno di PASCOM sono disponibili due piani dei conti. Il piano dei conti 80 per imprese e il piano dei conti 81 per i professionisti. Entrambi sono integrati con i dichiarativi. Il piano dei conti 80 per imprese presenta anche l'aggancio alla codifica CE che presto diventerà codifica UE per l'elaborazione del bilancio conforme alla 34esima direttiva UE da st'altranno o quarta direttiva CE in vigore fino alla scorsa campagna bilanci. Oltretutto all'interno del programma si trovano degli archivi e delle tabelle già precompilati. Un concetto che deve essere compreso ed è alla base della struttura del programma è il concetto di raggruppamento. Che cos'è il raggruppamento? Il raggruppamento è uno strumento che voi avete a disposizione all'interno di PASCOM che vi permette appunto di raggruppare, di tenere insieme aziende con caratteristiche comuni. In questo modo, tenendole insieme, queste aziende con caratteristiche comuni, potete realizzare della condivisione di dati tra le aziende. In particolar modo potete realizzare la condivisione del piano dei conti, la condivisione della parte anagrafica dei dati relativi ai clienti fornitori, la condivisione di tabelle, come ad esempio la tabella dei bolli delle spese banca, delle causali contabili, conti automatici, esenzioni IVA, centri di costo di ricavo, pagamenti e così via. L'utilizzo del raggruppamento agevole e facilita notevolmente l'attività di lavoro di studio. Perché? Perché evitate di ripetere la stessa operazione n volte quante sono le vostre aziende. Mi spiego meglio. Se l'azienda appartiene ad uno dei raggruppamenti standard da noi distribuiti, condividerà con le altre sorelle del raggruppamento il piano dei conti. Se devo inserire un nuovo conto, lo inserisco a partire da una delle n aziende del raggruppamento e quel conto è visibile e disponibile anche in tutte le altre aziende della mia installazione. Quindi evito di dover ripetere la stessa operazione, in questo caso la codifica di un conto, tante volte. I raggruppamenti disponibili all'interno di PASCOM da noi distribuiti sono l'80 per aziende, l'81 per professionisti. Questi sono aggiornati e gestiti da PASPARTU, vengono allineati ai nuovi rilasci in fase di aggiornamento degli archivi oppure da una funzione specifica che si trova in servizi, aggiornamento archivi, raggruppamenti PASPARTU. Un elemento di condivisione se l'azienda appartiene al raggruppamento è appunto il piano dei conti, che è forse l'elemento che interessa di più rispetto ad altre tabelle condivise. In particolar modo il piano dei conti standard collegato a ciascun raggruppamento prevede degli intervalli che non sono modificabili. Questi sono i gruppi dal numero 0 al numero 9, i mastri dal numero 1 al numero 69, i conti dal numero 1 al numero 999. Quindi se voi volete codificare nuovi conti lo potete fare, però è dopo il 1000. A questa regola generale fanno eccezione i mastri dedicati ai clienti e ai fornitori, che sono dal 501 al 599, dal 601 al 699, perché ovviamente sono mastri in cui noi non interveniamo, la codifica dei conti l'ha fatto unicamente voi, quindi sono completamente liberi. Continuiamo sulle caratteristiche dei raggruppamenti standard, perché come appunto vi ho detto, ciascun raggruppamento ha il proprio piano dei conti. Ogni conto ha l'aggancio relativo codice UE e quindi permette la compilazione automatica del bilancio UE attraverso l'utilizzo del modulo integrato ADP bilancio budget. ADP sta per analisi dati passpartout. Ci sono tabelle IVA per creare gli agganci tra la contabilità IVA11, comunicazione IVA, spesometro e così via. la tabella CESPITI studi di settore, che permette il corretto calcolo del valore dei CESPITI ai fini degli studi di settore dei parametri, la tabella Società di comodo, che permette il corretto calcolo degli importi ai fini della corretta compilazione del prospetto delle Società di comodo e poi per ogni conto troviamo delle tabelle di correlazione con la dichiarazione dei redditi affinché il saldo di quel conto possa essere correttamente agganciato al dichiarativo. Ovviamente gli agganci sono diversificati e variano al variare della gestione fiscale, quindi se sono un'azienda con la gestione fiscale ordinaria compilerò l'RF e il quadro RF avrò quindi gli agganci nei conti riferiti all'RF ad esempio e invece se sono un'azienda con gestione fiscale semplificata avrò gli agganci riferiti al quadro RG. All'interno dei raggruppamenti standard esistono delle tabelle già precompilate che definiscono gli agganci ad esempio tra un codice di esenzione IVA, la dichiarazione IVA o comunicazione IVA oppure gli agganci di un mastro di un conto all'adempimento IVA. Allora, noi di Passpartout nell'ambito dei nostri raggruppamenti provvediamo a fornire delle tabelle che consentono la compilazione automatica dell'adempimento già precompilate. Ciò non toglie che voi possiate provvedere comunque alla personalizzazione di queste tabelle e definire degli agganci particolari. Ora ve lo mostro. entro all'interno di un'azienda della mia installazione vado all'interno del menu DR modello IVA 11 IVA base a titolo di esempio tabelle e trovo praticamente la tabella da noi precompilata con tutti i codici IVA piuttosto che in alcuni casi i mastri agganciati ai diversi righi della dichiarazione IVA. Se voi utenti avete creato dei nuovi mastri piuttosto che dei nuovi codici di esenzione IVA con il tasto cambia tabella potete andare ad indicare i vostri codici personali all'interno della tabella affinché anche i vostri codici personali possano essere le operazioni che hanno nei castelletti IVA dei codici da voi creati possano essere correttamente processate ai fini dell'adempimento. Nel caso in cui io applichi delle personalizzazioni con il tasto congiungi posso vedere le due tabelle quindi la nostra e la vostra unite insieme. Allora, torniamo sui concetti generali perché all'interno del programma, all'interno di PASCOM alcuni archivi e tabelle possono essere generali generale significa che il contenuto di quell'archivio e di quella tabella è valido, visibile ed utilizzabile in tutte le aziende dell'installazione quali sono questi archivi? I codici tributo F24 i gruppi e causali cespiti gli intermediari fornitori servizi telematici i mittenti del servizio per l'invio dell'F24 CBI e i modelli standard di stampe personalizzate ci sono poi tre archivi cioè le banche, le valute cambi e le anagrafiche nominativi per i quali io posso decidere in sede di creazione dell'azienda se gestirli a livello generale oppure mantenerli consacrati alla singola azienda quindi renderli aziendali qual è la potenza di un archivio generale? pensate agli intermediari fornitori servizi telematici cioè voi utenti di studio siete presumibilmente autorizzati all'invio dei flussi ad esempio contenenti le deleghe F24 di n vostre aziende nel momento in cui voi vi codificate in quanto intermediari autorizzati all'invio telematico in una delle vostre aziende quella codifica voi la potete sfruttare in tutte le aziende ed è visibile in tutte le aziende quindi anche in questo caso siccome il dato è appunto generale l'archivio generale mi consente di sfruttarlo in tutte le aziende senza ripetere la codifica della stessa informazione più volte ci sono tabelle che invece hanno un livello di condivisione un po' più ristretto quindi possono essere proprie dell'azienda oppure condivise con il raggruppamento voi capite che però il raggruppamento è un po' più ristretto rispetto a tutte le aziende perché il raggruppamento ad esempio vede insieme aziende professioniste con aziende professioniste mentre aziende imprese con aziende imprese queste tabelle per cui ho la scelta tra condivisione con raggruppamento piuttosto che archivio esclusivo dell'azienda sono la tabella dei pagamenti categorie statistiche cespiti centri di costo e di ricavo causali contabili descrizione magazzini causali movimenti magazzini contropartite conti automatici ci sono poi delle tabelle che se l'azienda è di raggruppamento io le condivido per forza con il raggruppamento questi sono gruppi e mastri anagrafica piano dei conti bolle spese banche esenzioni IVA le aziende che voi create all'interno della vostra installazione PASCOM possono essere aziende di raggruppamento aziende battezzate abbinate a raggruppamento le aziende di raggruppamento condividono con le altre sorelle dello stesso raggruppamento la rubrica piano dei conti gruppi e mastri conti automatici e codici di esenzione IVA questo cosa significa? che se l'azienda AZ1, AZ2, AZ3 hanno lo stesso raggruppamento nel momento in cui io faccio la modifica in AZ1 e vado ad esempio ad inserire un nuovo conto questa modifica automaticamente è visibile riportata ed utilizzabile anche in AZ2 ed AZ3 che sono sorelle di AZ1 aziende battezzate abbinate al raggruppamento questa è una categoria importantissima che vi sarà molto utile per la gestione di tutti quei casi in studio che sono un pochino particolari cioè presentano un elevato grado di particolarità e quindi preferite non inserirle diciamo nel gruppo nel cerchio del raggruppamento queste aziende sono collegate al nostro piano dei conti standard e continuano ad usufruire di tutti gli aggiornamenti da noi rilasciati al piano dei conti quindi continuano ad usufruire di tutti gli automatismi legati al piano dei conti di passepartout però rimangono battezzate battezzate cosa significa? che sono delle aziende a sé stanti quindi se l'azienda AZ5 non è di raggruppamento ma è abbinata al raggruppamento questa qua è un'azienda nella quale se io provvedo all'inserimento di un nuovo conto quel conto sarà visibile solamente all'interno di questa azienda questa è una categoria di aziende che vi invito a considerare per tutte quelle situazioni in cui c'è bisogno magari di fare modifiche al piano dei conti che sono delle modifiche un po' invasive che magari non volete vedere in tutte le aziende dell'installazione semplicative che elimini in tutti il nostro corso